Ben trovati i rati G della mobilità dal 10 al 28 gennaio. I tram della linea 8 saranno sostituiti da bus navetta per lasciare spazio a un cantiere. Si tratta di lavori sulla pavimentazione tra le corsie tramviare di Viale Trastevere della circonvalazione Gianicolensi. A questo cantiere si aggiunge un intervento di rifacimento dell'anello tramviario del capolinea a Casaletto. Le navette sostitutive seguiranno il percorso della linea transitando nella corsia del traffico privato. E ricordiamo che nel corso della giornata di oggi è possibile la chiusura temporanea delle stazioni della Metro A di Spagna e Flaminio per limitare gli assembramenti in funzione anti-Covid sempre su disposizione della Questura di Roma. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità. Grazie a tutti.